Se non abbiamo la linea melodica di un canto, se non abbiamo il beat di un tamburo, come facciamo a dire stiamo suonando una pizzica pizzica? La cosa che mi interessa di più è veramente tramandare questo messaggio, questa luce che si è accesa nel mio cervello e dire attenzione cavallo, se non fai questa cosa il tamburo lo perdiamo. Uno a quarta. Eugiano Montefusco Abita una vigliola Abita una vigliola Nel Sarento in questi ultimi dieci anni si è pensato di più a fare show business che è a portare un linguaggio più local. Oggi rappresentiamo un territorio, oggi rappresentiamo la nostra musica e abbiamo una responsabilità per chi poi verrà dopo. Nel Sarento in questi ultimi dieci anni Nel Sarento in questi ultimi dieci anni